Noi come ConfCommercio stiamo ultimando un progetto che si chiamerà Commercio Online Divicinato e per cui ci mettiamo pure noi all'interno di questo mondo. Un incontro in ConfCommercio per presentare queste iniziative, per rilasciare un report sui riflessi derivanti dal lockdown, su dinamiche aziendali, abitudini dei consumatori, utilizzo dell'e-commerce, i servizi delle aziende e lo sviluppo della digitalizzazione. Sia in Friuli, Venezia e Giulia che nel resto del paese. Abbiamo avuto un incremento del 55% di acquisti online, un dato che darà se fino all'altrano l'Italia che è il penultimo posto in Europa per acquisti, per fortuna ancora, acquistavamo 31 miliardi di prodotti, quest'anno andiamo sui 50 miliardi, 49 miliardi e 700 mila di acquisti. Per cui abbiamo, dico raddoppiato, ma 65% in più di acquisti. E questo cosa comporta? Questo comporta che durante il coronavirus, un po' per bisogno, un po' per pigrizio, un po' perché la gente a casa non sapeva cosa fare, hanno imparato ad acquistare un po' tutti quelli che acquistavano già acquistavano di più. Quindi i dati registrati delle abitudini dei consumatori nel periodo di lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus e su come il commercio ha reagito alla necessità di cambiare metodologie di vendita. Durante il coronavirus c'è stato un incremento del 2.114% di imprese che hanno creato un sito e si sono messe in gioco, sia per le vendite, sia per le consegne a domicilio, sia per l'alimentare, sia per il food che non il food. Per cui con questo sito che andiamo a realizzare a livello nazionale come ConfCommercio ogni negozio, ogni società di servizi avrà la possibilità di arrivare a casa di tutti e con una geolocalizzazione l'utente da casa potrà cliccare in base a quello che le serve e sapere quali negozi del suo circondario o della città possa offrire quei servizi.